Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Ben ritrovati ai nostri ascoltatori Il Corriere dello Sport ci racconta di come la vicenda dello stadio di Firenze potrebbe degenerare in una novella dello stento Rocco commesso ha fretta di avere la delibera il più presto possibile ma non ha fatto i conti con la lentezza della burocrazia italiana D'altra parte Dario Nardella ha proposto l'area Mercafir A ciò si aggiungono i comuni limitrofi che hanno messo a disposizione i loro spazi Parliamo ora di Martin Caceres sempre dal Corriere dello Sport Veniamo a sapere che con ogni probabilità la Fiorentina si avvarrà di un'opzione presente nel suo contratto Facendone slittare la scadenza al 2021 Caceres da quando ha vestito la maglia viola è stato titolare nel nuovo 3-5-2 di Montella senza mai staccare Ha dato più equilibrio al reparto difensivo generando soddisfazione tra la dirigenza Per Fiorentina1 Graziano Davoli Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola